Fiducia è parola che deriva dal latino fides. Nella lingua latina fides era la corda, cioè il legame che univa due corpi per tenerli fra di loro uniti. Più nello specifico la fides era la corda del liuto che doveva essere ben tesa perché potesse suonare. È molto efficace questa immagine della fiducia come corda perché ci fa capire che tra le persone si instaurano rapporti di fiducia soltanto se ci sono dei legami, cioè delle corde che le tengono unite. La fiducia dunque non è un vago filosofema né un vago sentimento morale come qualcuno pensa. Per fidarmi io ho bisogno di sapere che tu meriti fiducia e come faccio io a saperlo? Se c'è un qualche cosa che ci tiene uniti. In questo senso oggi il termine fiducia è tornato prepotentemente all'attenzione perché un'economia avanzata, un'economia di mercato avanzata non può progredire se i nessi fiduciari tra le persone non si rafforzano e anzi non si moltiplicano. L'economia di mercato può fare a meno di qualsiasi altra cosa eccetto che della fiducia. Non ha bisogno delle risorse naturali come qualcuno pensa o della localizzazione geografica. Ha bisogno però dei nessi di fiducia e nei territori, regioni o paesi dove i nessi fiduciari, cioè il capitale sociale è molto forte, avanzato, lì c'è progresso ed è soprattutto sviluppo umano integrale.